Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. 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 Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dal tuo amore, in te speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scuro. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore. Domenica di Quaresima dell'anno A, il Salmo 32, che commenta Genesi 12, la chiamata di Abramo. L'ec leca, Abramo esci, oppure Abramo entra in te stesso. L'ec leca. Ma quando entriamo in noi stessi, cosa troviamo? Non è facile. Allora ci aiuta il Salmo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme. Il rapporto di fede con Dio è comunione di sguardi tra Dio, che dal cielo vede, e il fedele, che distogliendo gli occhi dalle amarezze della propria vita, li fissa in quelli del suo Signore. Dio non è uno specchio. I suoi occhi non sono specchio delle nostre fragilità, ma sguardo di amore e finestra per l'infinito. Dio non è uno specchio delle nostre fragilità, ma sguardo di amore e finestra per l'infinito. Dio non è uno specchio delle nostre fragilità, ma sguardo di amore e finestra per l'infinito. Dio non è uno specchio delle nostre fragilità, ma sguardo di amore e finestra per l'infinito.